Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato, devo dire che non è stato facile, a tratti è stato difficilissimo, ma non abbiamo mollato e il sogno finalmente si è realizzato. Entrando già nei giardini di Barletta, che tengo a dire su una fruizione totalmente gratuita, troverete le casette dei mercatini natalizi e questa facciata del castello interamente addobbata al Natale. Però la vera magia è nei sotterrani dove sono state allestite queste cinque stanze tematiche da artigiani che hanno fatto il tutto interamente a mano e devo dire che passeggiando in questi sotterrani trasuda l'amore e la passione che questi artigiani hanno messo nella realizzazione del progetto, superando ogni più miarossia aspettativa. Le stanze sono la fabbrica del giocattolo, dove vorrei ricordare che c'è una raccolta in beneficenza, addono il tuo giocattolo, dove i bambini che hanno un giocattolo che non usano più potranno incartarlo e darlo a noi fino al 20 dicembre, dopodiché noi provvederemo a farli arrivare ai bambini meno abbienti. Poi abbiamo la stanza della Foresta Innevata, la Tana del Grinch, l'ufficio postale di Babbo Natale, dove c'è sia l'ufficio postale per bambini, ma c'è anche l'albero dei desideri, per i desideri degli adulti, e poi finalmente l'incontro nella stanza di Babbo Natale. Vi invito a venire a visitare tutti i Christmas Wonderland e a sognare con noi. È un evento che aiuta i nostri bambini a vivere momenti di felicità, di allegria, di fantasia, di surreale, di surrealità, uso questa parola. Davvero devo dire grazie agli organizzatori che hanno avuto questa grande invenzione, di fare a Barletta questo evento. Possiamo dire che essere contenti, come amministratore comunale pensiamo di aver fatto una cosa buona nell'aver proposto alla città questo evento. Non dobbiamo mai dimenticarci di bambini sfortunati, dobbiamo ricordarci dei bambini che stanno vivendo momenti di paura e di terrore a Gaza, in Israele, in Ucraina, in tutte le guerre del mondo. E quindi dobbiamo ricordarci che questo è un paese dove la democrazia ci consente la libertà e i bambini di questo devono essere consapevoli e vivere in felicità questi momenti. L'organizzazione è avvenuta da un'idea, un'idea da parte della Presidente dell'Associazione Grazia che ha avuto questo brillante sogno di collocare il castello, il villaggio di Babonata all'interno del castello di Barletta. Quindi è un sogno che poi mi ha trasferito e io ho cercato di interpretare al meglio quello che è il sogno, l'immaginario comune di tutti i bambini, di tutti quanti noi, di tutte le persone che da sempre hanno amato e amano il Natale. Quindi ho reso reale un sogno attraverso le scenografie, le ambientazioni, i personaggi, i profumi, le musiche, tutto ciò che può aiutarci per poter appunto rendere reale tutto quello che invece di solitamente è immaginario. I sotterranei del castello di Barletta sono sicuramente una grande ispirazione perché comunque abbiamo questi grandissimi ambienti, queste grandissime sale storiche, abbiamo la Sala della Cannoniera che è una sala circolare veramente a cupola, veramente bellissima e molto suggestiva. Quindi è stato semplice creare e collocare all'interno di questi ambienti tutto ciò che potesse essere poi la scenografia più romantica del Natale. Quindi sicuramente il castello ci ha aiutato in questo e poi gli abbiamo dato un po' di magia che è quella classica del Natale. Invito tutti i cittadini di Barletta a visitare la mia casa. Vi aspetto e anche altri.